La nostra è una lunga tradizione nel mondo del vino, l'azienda risale al 1894 e io rappresento la quarta generazione. In questo territorio in Canavese noi abbiamo un vitigno che si chiama erbaluce che è il vitigno direi tipico della nostra zona. È un'uva bacca bianca che dà origine a tre diverse tipologie di prodotto e tutte e tre hanno la menzione e il riconoscimento di denominazione d'origine controllata e garantita e sono lo spumante unicamente ottenuto con il metodo classico, il bianco secco e la versione passito che è la versione storicamente più importante per quest'uva che ha attraversato i secoli di storia quasi unicamente in questa versione come vino da dessert, come vino dell'accoglienza. Abbiamo cercato di recuperare il potenziale di questo vitigno, l'erbaluce di caluso, ancora non totalmente espresso, cercando di ripercorrere sul solco della tradizione e innovando le tecniche con il quale veniva coltivato. Ho dovuto in qualche modo recuperare dalla storia, dai libri quello che era la sua origine e il suo passato. Questi libri raccontano della viticoltura in Canavese, una viticoltura molto importante che aveva raggiunto nel corso del 1700-1800 l'estensione di quasi 13.000 ettari di vigneto. L'economia del territorio era basata sul vino. Era soprattutto un vino rosso, ma l'erbaluce già dal 1600 viene citata da Lorenzo Gatta, tra l'altro originario proprio di questo comune in cui siamo. Produciamo su di una superficie che è circa 20 ettari di vigneto e seguiamo dalla potatura delle piante fino alla bottiglia finita tutte le fasi della lavorazione. In questo vigneto non abbiamo mai introdotto molecole di sintesi, non è mai stato fatto uso di pesticidi, di insetticidi e i collaboratori più preziosi, se noi li rispettiamo, sono poi gli insetti. Dopo 10 anni abbondanti le vigne cominciano a dare dei risultati e il prodotto che ne sta scaturendo è un prodotto decisamente interessante, ma soprattutto è un ambasciatore di queste terre. In Canavese l'economia degli ultimi 2000 anni, tolti gli 80 anni di Olivetti, era basata sull'agricoltura, in particolar modo sulla viticoltura, quindi non c'è famiglia in Canavese che non abbia nei suoi geni la viticoltura e tutti quanti in Canavese ricordano di aver avuto o di avere ancora un vigneto. Quindi anche la mia storia parte di lì. Una imprenditoriale nel mondo della tecnologia ho voluto recuperare ciò che era già di mia proprietà, quindi i vigneti che in quel momento erano gestiti da altre persone. Oggi l'azienda agricola ha circa 9 ettari, di cui 2 ha vigneto e via via sto recuperando quei vigneti che sono stati abbandonati da molto tempo per far sì che la natura abbia bonificato il terreno. L'estensione dei vigneti è importante sì, ma è limitata se vogliamo, ma ciò che è importante è il tipo di esperimento che si sta conducendo. Questo grazie anche all'amico Gianluigi Orsolani con il quale tutto questo discorso viene portato avanti. Il legame fra una produzione oggi enologica ed il territorio è assolutamente inscindibile e credo che nel futuro lo sarà sempre più. Per cui da parte nostra c'è la massima disponibilità come azienda a interagire con chiunque abbia voglia di portare delle innovazioni e di valorizzare il cannavese perché lo riteniamo un po' una missione aziendale. E dall'altra parte sicuramente non dobbiamo dimenticare il focus che è la qualità del vino, il miglioramento della qualità, il miglioramento della piacevolezza nel momento che si consumano i nostri vini.